Cosa succede tendenzialmente oggi tra i fisici? Succede quel grande collasso che è dovuto al presunto isomorfismo tra realtà e descrizione di realtà. Cioè, per me la realtà è tutto ciò che so dire della realtà. Quindi cosa dicono? È il famoso paradosso del gatto. Ti dicono, il gatto di Schrödinger, per dire, no? E contemporaneamente vive morto perché vive una sovrapposizione di stati. Tu questa sovrapposizione di stati, vivo morto? Effettivamente a puntista formale e matematico ce l'hai. Il fatto è che quello è il che cosa tu sai del gatto, non quello che è il gatto. Questo è il problema. Quindi è chiaro che se io dico, postulo, che la realtà fisica è quello che posso dire della realtà, eh, sono fregato. Cioè, sono fregato. Cioè, capito? Il gatto è controvendente di me. Ma è solo che nella mia conoscenza, eccolo lì il problema, tra l'altro, di un probabilismo frequentista. Invece bisognerebbe recuperare un probabilismo baesiano. Baesiano. Cioè, il problema frequentista è quello che ti dice, bene, se tu, allora, tu hai una monetina, la lanci in aria e tu hai, se non è truccata, il 50% di probabilità che esca testa, cioè il 50% che esca croce. Questo non significa che se tu lanci dieci volte la monetina tu avrai cinque teste e cinque croce. Questo, questo, questo limite di 50-50, viene, cioè questa fattualità di 50-50, verrebbe rispettata quando tu ti sposti a grandi numeri, la lanci un milione di volte, certo che cominci sempre di più ad approssimarti a metà e metà. Quindi è lì che la probabilità frequentista tende a quella baesiana. Quella baesiana, infatti c'è un movimento che si chiama cubism, che è il quantum baesianesimo, qua ho detto male, cioè dove appunto recuperano un concetto non frequentista della probabilità. Quindi in questo senso, anche se in un'approssimazione ancora semiclassica della fisica quantistica, come la quantum mechanics, con questo tipo di probabilità, che ti ricorda che quel tipo di probabilità è il tuo grado di confidenza soggettiva, cioè di quanto tu sai sulla realtà, ti dà comunque già un'apertura diversa, un significato diverso di quello che dici. Non come, ah no, io finché non ho aperto la scatola, il gatto è sempre che morto. Ma che cavolo stiamo dicendo? Il gatto è in un qualche modo che però noi non sappiamo. Ecco, questo è un grosso problema della fisica. Cioè, fisici, vi prego, cerchiamo di non fare casino. Allora, un conto è la realtà fisica, e un conto è quello che io so dire della realtà fisica. Se le mettiamo insieme queste cose qua, non va bene, perché quella lì è la descrizione. Cioè, capiamo una volta per tutte, ragazzi che studiate fisica oggi, che è importante questo, eh? Vero?